Poi in realtà Sanremo la musica è legata molto, quasi estremamente al festival, che è un'arche stasunforica, che è tutta la Pugliela. A volte guardiamo con i bighi ai festival, che è fatta in la zona di Barolo, perché vendono dei nomi importanti. Certo, naturalmente noi non siamo una città della musica, siamo una città del vino, e il Barolo è il più importante di noi. Però abbiamo fatto un grosso sforzo per cercare di legare i prodotti dell'erogastronomia, non solo di Barolo, ma la barbera, le cani, i formaggi, tutti i grandi prodotti di Piemonte, a un festival che è diventato un festival agri-rock, che è molto connotato. Io credo che forse anche Sanremo avrebbe bisogno di connotare di più la sua attività radicale, la sua attività musicale, tutte le sue eccellenze, proprio in chi produce, in chi lavora nell'economia della città, quindi a tutti i livelli, quindi dando più protagonismo a tutte queste categorie che sono poi il motore economico della città.